È una San Vendemiano tirata a festa, quella che torna ad ospitare l'internazionale riservata agli under 23. Si corre la quindicesima edizione del trofeo Città di San Vendemiano, 62esimo Gran Premio Industria e Commercio. Sono 162 gli atleti radunati al via dal Velo Club San Vendemiano presieduto dall'appassionatissimo Fabrizio Furlan. Un lotto di partenti di primissimo piano che comprende alcune delle formazioni straniere più forti della panorama internazionale. Tra queste avete visto la Colombia Tierra d'Atletas e soprattutto la Stana Development Team. Per onorare il momento della partenza tante le autorità presenti a partire dall'assessore regionale Sonia Brescacin e dalla vice sindaco di San Vendemiano Renzo Zanchetta che hanno accolto anche gli atleti ucraini per la prima volta in gara in Italia. A fare da cornice al momento dello start anche i campioni del mondo come Maurizio Fondriest e Moreno Argentin. Sono poco meno di 180 i chilometri da compiere suddivisi in due parti completamente diverse. Le prime dieci tornate infatti si corrono sul circuito cittadino di San Vendemiano completamente pianeggiante per poi spostarsi invece sulle colline della Prosecco e andare ad affrontare cinque tornate molto impegnative con la salita di Formeniga e soprattutto il muro di Cadel Poggio. Si scende poi e si torna sul traguardo di San Vendemiano. Una retta d'arrivo che è diventata ormai tradizione per gli Under 23. Lo scorso anno ad imporsi al photo finish fu il francese Paul Laperat dell'Asie Desert Citroën che riuscì ad avere la meglio su Jacopo Menegotto per pochissimi centimetri. Ma con le nostre immagini siamo già in azione. Nei primi 50 chilometri infatti prende in largo la prima azione di giornata. A tentarla sono Giovanni Gazzola del pedale scaligero, Lorenzo Ferroni della gallina Ecotec Lucchini e Andreas Presti del cycling team Valcavasia. Questi tre attaccanti raggiungono un vantaggio massimo sul gruppo che supera i sei minuti. Il plotone poi torna sulle tracce dei fuggitivi anche grazie al lavoro dei ragazzi della Stana e il divario si riduce ad appena due minuti e mezzo quando si va ad uscire dal circuito iniziale e ci si dirige verso le colline della Prosecco. Dicevamo una fase di gara, questa seconda decisamente più impegnativa della prima, quella che poi ha deciso le sorti di tutte le recenti edizioni del trofeo Città di San Vendemiano. Siamo per il primo passaggio sulla serita di Formeniga. Avete visto Andreas Presti alzare bandiera bianca poco più in là. Sulle prime rampe della muro di Cadel Poggio si stacca anche Lorenzo Ferroni. Rimane così al comando da solo Giovanni Gazzola decisamente scatenato che si è aggiudicato anche la classifica dei traguardi volanti e va a transitare per primo sul primo passaggio in vetta al muro di Cadel Poggio. Poco dopo però il gruppo dei migliori tornerà sulle sue tracce, le carte si rimescoleranno e si aprirà la seconda fase di gara. Una seconda parte che attende protagonisti, i migliori interpreti del mondo Under-23 internazionale. Infatti vedete quando siamo già al secondo passaggio su Cadel Poggio è Fran Mjoljevic, il croato del cycling team Friuli che appena tre giorni prima si era imposto in terra slovena ad imporre il proprio forcing. Poi quando si va a scalare nuovamente Formeniga ad accendere ufficialmente le micce ci pensa Federico Guzzo. Lui che è di Bibano di Godega al terzo anno tra gli Under-23 con la maglia della Zalfero Mobile de Girefior va a suonare la carica quando avete visto eravamo in vista del cartello dei 50 km al traguardo. Si scende veloci, si torna a salire sul muro di Cadel Poggio ed ecco che Federico Guzzo se ne va tutto solo. Stacca anche Alessandro Pinarello con la maglia della Bardiani-CSF-Faizanè e tenta l'impresa solitaria. Mancano ancora più di 40 km al traguardo ma Guzzo non ci pensa due volte e va a scollinare con un vantaggio di appena 20 secondi sui più immediati inseguitori. Su di lui infatti si riporteranno subito il colombiano German Gomez Becerra e il suo compagno di squadra Simone Raccani. Quindi tre uomini al comando quando mancano da scalare ancora per due volte sia il muro di Cadel Poggio che Formeniga nel tratto in discesa, soprattutto nel tratto in pianura rientrano in testa alla corsa anche Oliver Stockwell il britannico del second team Friuli e soprattutto Dylan Hopkins della lubiana Gusto Santic. Questo quintetto viaggia con 25 secondi di vantaggio su un gruppo di una quarantina di unità che insegue appunto questi 5 battistrada. L'accordo, vedete, è ottimo in testa alla corsa questa inizia ad essere un'azione importante proprio perché ormai siamo in vista della gran finale. Le ultime due tornate del circuito collinare apriranno poi la strada verso il traguardo di San Vendemmiano. Quando si torna a salire sulle rampe di Formeniga però in testa alla corsa si rompe l'accordo ed è nuovamente Federico Guzzo ad allungare in solitaria. Se ne va la chetichella questa volta senza alzarsi sui pedali e vedete che invece i suoi avversari iniziano a guardarsi capiscono che il gruppo è vicino non credono più in questa azione e rialzano il piede dell'acceleratore. Non fa così invece Federico Guzzo che prosegue dritto per la propria strada e se ne va tutto solo. La sua azione prenderà corpo chilometro dopo chilometro. Lui che va ad affrontare il muro di Cadel Poggio incitato dallo straordinario pubblico trevigiano dove è presente quest'oggi anche patron Gaspare Lucchetta ed è Gianni Faresina a dare la carica al proprio ragazzo a dargli le ultime indicazioni. Rapporto agilissimo per Federico Guzzo che conosce a menadito queste strade sono le strade dei suoi allenamenti e cerca di sfruttare il fattore campo in vista del gran finale. Al suo inseguimento si spezza l'accordo del gruppo ed è nuovamente Germán Gómez Becerra della Colombia Tierra d'Atletas lui che è anche campione nazionale Under-23 della Colombia a gettarsi all'inseguimento solitario del battistrada. Federico Guzzo però non si volta capisce di avere tra le mani una possibilità enorme per portare a casa questo che è un successo che lui ha sognato sin da quando era bambino. Infatti va ricordato che Guzzo ha iniziato a muovere i primi colpi di pedale proprio con la maglia del Velo Club San Vendemiano. La società organizzatrice della manifestazione internazionale di San Vendemiano ha visto proprio il proprio talento crescere prima nelle categorie giovanili per poi affidarlo alla maglia della Zalfero Mobile Desiree Fiore e vederlo finalmente sbocciare su un panorcoscenico internazionale. Non demorde però il colombiano Germán Gómez Becerra che va a scollinare a Cadel Poggio sull'ultimo passaggio sul muro con appena 12 secondi di ritardo da Guzzo. E dunque corsa apertissima quando siamo già negli ultimi 20 km di gara con Guzzo al comando a 12 secondi il colombiano Germán Gómez Becerra a 40 secondi un drappello di inseguitori. A questo punto sono finite le salite a Guzzo non resta che buttarsi a capofitto in discesa e poi spingere a tutta sin sul traguardo ma il suo vantaggio è risicatissimo. 12 secondi abbiamo detto su Germán Gómez Becerra che si lancia in discesa tenta il tutto per tutto sbaglia anche qualche traiettoria e quando tornerà in pianura avrà un distacco dalla battistrada di appena 15 secondi ma attenzione perché qui si consuma un altro colpo di scena su Germán Gómez Becerra rientra come un treno il croato Fran Mio Lieviz Cycling Team Friuli uno degli uomini più in forma del momento uno dei talenti più cristallini del panorama internazionale che va a dare a manforte alla Colombiano all'inseguimento di Federico Guzzo che è già negli ultimi tre chilometri di gara siamo già sulle strade di San Vendemiano con Federico Guzzo che vede il proprio vantaggio scendere pedalata dopo pedalata in favore dei più immediati inseguitori era riuscito ad arrivare anche ad un vantaggio di 25 secondi sul Colombiano ma qui nelle ultime battute ormai sono una dozzina i secondi che lo separano dagli inseguitori ma ormai è fatta per Federico Guzzo 5 a Luciano Rui il team manager della Zalf e poi passerella sul lunghissimo rettifilo d'arrivo di San Vendemiano ecco lo spuntare dalle nostre telecamere fisse Federico Guzzo in perfetta solitudine va ad aggiudicarsi il quindicesimo trofeo città di San Vendemiano 62esimo Gran Premio Industria e Commercio perfettamente allestito dagli uomini del Velo Club San Vendemiano secondo successo stagionale per lui sicuramente il più prestigioso della carriera ma gli inseguitori sono lì ad appena 7 secondi con Fran Mio Lieviz che scarica sui pedali e sul maniubrio tutta la rabbia per non essere riuscito a recuperare il gap che lo separava da Guzzo terza piazza per il colombiano German Gomez Becerra che va così a completare un podio internazionale quarta piazza per Dylan Hopkins della Ljubljana Gusto Santic che precede di pochi metri la volata del gruppo inseguitore regolata da Mattia Petrucci davanti a Foldhager Meris Marcellusi Carpene e Baroni è caduto fino in fondo e sei stato premiato sì sono partito da distante era un attacco un po' pericoloso perché la distanza era tanta il margine non era non era alto perché 20 secondi sul colombiano erano davvero pochi però ci ho creduto fino in fondo e sono arrivato dopo la Firenze Empoli questa è la gara dei tuoi sogni ce l'hai fatta a chi la dedichi? sì è la corsa dei miei sogni perché corro nelle strade di casa io sono cresciuto tra il San Vendimiano fin da quando ero giovanissimo credo che la dedica vada proprio a loro perché è una società seria che punta soprattutto alla crescita dell'atleta è una società che mi ha fatto crescere come atleta te la sei guadagnata con le gambe ma il tifo lungo le strade era davvero straordinario il fattore campo oggi ha contato sì avevo molti tifosi nelle strade queste sono le strade dei miei allenamenti quindi c'era gente che conoscevo e un grazie anche a tutti loro hai vinto l'internazionale di San Vendimiano e adesso? adesso vediamo già la domenica prossima Fabrizio Furlan una edizione 2022 al Cardio Palma e la vittoria di un vincitore davvero straordinario ma non ti neo che faccio fatica a parlare la giornata è stata straordinaria il tempo bellissimo e il vincitore Federico Guzzo che scusate ma lo conosciuto come mio figlio un fratello un ragazzo eccezionale complimenti a lui complimenti alla Zalf complimenti a tutti i partecipanti io ringrazio tutti voi che avete dato modo che tutti potessero vedere questa meravigliosa gara dato l'amministrazione comunale agli sponsor e tutti quelli che in un modo o nell'altro comunque ci hanno aiutato da sabato a oggi e anche spero per la prossima settimana il Veloclub San Vendimiano vince nell'organizzazione e oggi vince anche con Federico Guzzo chi ben inizia a metà dell'opera si dice oggi ce l'aspettavamo almeno il podio sicuramente con Filippo ce l'aspettavamo a Savassa poi mi è arrivato il messaggino che Filippo ha vinto quindi ancora di più la giornata d'apoteosi finale veramente sicuramente